numero 5 lo sure beta 52 ampere è il compagno ideale per chiunque abbia bisogno di amplificare la gran cassa o registrare il suono potente e ricco delle basse frequenze degli strumenti musicali ma non fermatevi solo alla gran cassa perché questo microfono si adatta perfettamente ad altri strumenti che hanno un forte focus sulle frequenze basse con il suo diagramma polare super cardioide il design dinamico il beta 52 a offre una risposta in frequenza che spazia dai 20 ai 10 kilohertz questo significa che catturerà tutti i dettagli dei bassi con una qualità eccezionale trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 la coppia di rode nt 5 è un vero e proprio must have nella fascia media dei microfoni sia che tu lavori in uno studio di registrazione professionale che sul palco questi microfoni hanno conquistato la fiducia di tutti coloro che li hanno provati il loro utilizzo come overhead o per la microfonazione dei piatti è diventato uno standard nel settore un aspetto che colpisce di questi microfoni è la loro risposta polare di tipo cardioide che consente di catturare con precisione il suono desiderato se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 sure pg alta drum kit 7 è il kit completo che soddisferà ogni esigenza per la microfonazione della batteria questo set professionale comprende tutto ciò di cui avete bisogno per catturare il suono più autentico e vibrante dei vostri tamburi include un microfono pga 52 per la gran cassa caratterizzato da un diaframma ampio che cattura i bassi profondi in modo chiaro e definito con i tre microfoni per tom pga 56 potrete ottenere un suono dettagliato e ben bilanciato per ogni tom della batteria acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 l'audix dp 5 è un set di microfoni ideale per le esigenze di registrazione e amplificazione dei batteristi questo set che include 5 microfoni di alta qualità ti permetterà di catturare ogni sfumatura e energia dei tuoi attacchi sulla cassa rullante tom e timpano la risposta in frequenza impeccabile dei microfoni di 6 per la cassa e 5 per il rullante ti garantiranno un suono potente e professionale in grado di gestire anche le pressioni sonore più elevate grazie alla loro resistenza e precisione potrai ottenere un suono definito e dettagliato trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 quando si parla di microfonazione professionale c'è un nome che risuona più degli altri neumann e tra i tanti modelli che offre spicca il neumann km 184 un microfono che ha conquistato il cuore degli specialisti di tutto il mondo questo è un microfono cardioide a diaframma piccolo caratterizzato da un trasduttore a gradiente di pressione che garantisce una risposta in frequenza eccezionalmente lineare e uniforme sia per l'asse principale che per gli angoli di incidenza ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di registrare fedelmente la timbrica del vostro strumento senza aggiungere alcuna colorazione al suono in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto